Musica E' meglio, sono più sicuro. Tu sei il piccolo della famiglia, mamma e papà, le sorelle erano già vaccinate. Sì, eravamo tutti i già vaccinate. Tutti i già vaccinate eri rimasto solo tu, ma è vero che lo volevi fare già tanto tempo fa? Sì, sì, lo volevo fare prima che uscisse in realtà. Come ti chiami, coraggioso? Marcello Sprovisti. Complimenti. Grazie.